Melpignano, Lipignana in grico e Merpignanu in dialetto salentino, fa parte dell'associazione Borghi Autentici d'Italia e dei comuni virtuosi per la gestione ecosostenibile del territorio e appartiene alla storica regione della Grecia salentina, isola linguistica in cui si parla un antico idioma di origine greca, il grico. Il borgo è celebre per ospitare il concertone finale della Notte della Taranta, il più grande festival musicale dedicato al recupero e alla valorizzazione della pizzica salentina. Uliveti, pascoli e infinite distese pianeggianti, divise solo da muretti a secco, ospitano il borgo di Melpignano, da sempre crocevia di scambi commerciali, culture e lingue diverse. Il territorio circostante, il centro abitato, è ricco di cave dalle quali si estrae la pietra riccese, materiale utilizzato per costruire gli edifici del borgo. Il centro storico si caratterizza per la presenza di Menir, Dolmen e case a corte che raccontano di un passato lontano. Le vere origini di Melpignano non sono certe, ma le ipotesi più accreditate le farebbero risalire ai greci del Peloponneso o a Melpinius, centurione romano che ottenne in sorte il territorio in cui sorge oggi il borgo a seguito dell'occupazione romana. Colonizzata quindi dai romani, fu dominata poi per oltre cinque secoli, cinquecento anni, dai greco-bizzantini che ne caratterizzarono radicalmente gli usi, i costumi e la lingua locale, il grico di cui sopra. In seguito alla sovranità dei normanni, il borgo passò sotto il controllo di numerose famiglie feudatarie, gli Orsini del Balzo, i d'Aragona, i de Luca, ultimi feudatari di Melpignano. Con l'abolizione della feudalità nel 1806, fu aggregato a Castrignano dei Greci, con cui costituì un unico comune. L'unione amministrativa tra i due centri fu poi interrotta nel 1837. Numerose sono le architetture religiose e civili di vasto pregio, visitabili nel borgo di Melpignano, tra le quali c'è la chiesa e l'ex convento degli Agostiniani, edificata a partire dal 1573, nel cui ampio spazio antistante si svolge ogni anno il concerto finale del Festival della Notte della Taranta. Da visitare il Palazzo Marchesale de Luca, edificato nel 1636, e il giardino al suo interno, arricchito con balaustre in pietra reccese, una fontana al centro dei viali e un regolato con panche in pietra. Inoltre, numerosi sono, come ho già detto, i menhir presenti nel borgo e nel territorio circostante, naturalmente. Tra i più importanti troviamo il menhir Minonna, situato nell'abitato, il menhir Candelora, inglobato nel muro di cinta di uno stabilimento industriale per l'estrazione e la lavorazione della pietra reccese. Inoltre, a pochi chilometri dal centro abitato, è possibile ammirare il dolmen specchia. Per quanto riguarda la cucina tradizionale salentina, è tipicamente mediterranea, definita povera, ma ricca di sapori e prodotti di grande qualità, profondamente legata ai prodotti della terra, ma anche del mare. Tutte le ricette sono completate con olio d'oliva, definito l'oro liquido, e accompagnate con il vino locale.